Un nuovo locale d'Indrangheta attivo e confederato alla cosca di Taverniti di Giocarne nel Vibonese è stato scoperto a stilo nella Locride nell'ambito dell'inchiesta Doppio Sgarro, condotta dai carabinieri della compagnia di Roccella Ionica e del gruppo Locri e coordinata dalla DDA di Reggio Calabria. Su richiesta del procuratore Giovanni Bombardieri dell'Aggiunto Lombardo, il GIP ha emesso nove ordinanze di custodia cautelare, sette in carcere e due domiciliari. I reati contestati sono a vario titolo quello di associazione a delinquere tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti ed ancora produzione, traffico e detenzione di droga. L'inchiesta coordinata dai sostituti Simona Ferraiolo, ora trasferite a San Milano, e Domenico Cappelleri è partita dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia raccolte durante le indagini su alcuni episodi avvenuti nell'area dello Stilaro, tra cui l'omicidio di Marcello Geracitano avvenuto nel 2005 e quello di Giuseppe Gerace nel 2012. I fatti di sangue non sono contestati, ma grazie a una rivistazione di precedenti attività di indagine si è arrivati agli arresti di oggi, con cui i PM hanno disarticolato un gruppo criminale composto prevalentemente da soggetti legati ai vincoli familiari e collegati alla cosca Taverniti. Al centro dell'indagine sono le famiglie mafiose e lo Stilaro che, secondo il GIP Giovanna Sergi, sono interessate a garantirsi il controllo del territorio, con la solita metodologia delle imposizioni dei condizionamenti violenti anche all'attività amministrativa. Cosche che, per i magistrati da tempo, ormai si sono rese artefici nella condizione di grave depressione che governa quelle aree calabresi, in tutto asservite alla prepotenza mafiosa. L'inchiesta Doppio Sgarro ha consentito di accertare ruoli e gradi degli affiliati, per lo più membri della famiglia Spagnolo, secondo i PM a capo della nuova locale di Indrangheta operante a stilo. La consorteria mafiosa era attiva nei danneggiamenti, nelle estorsioni, nei pascoli abusivi e grazie anche alla disponibilità di armi, secondo i carabinieri, avrebbe ingenerato nella popolazione un diffuso timore e senso di omertà. C'è anche il boss latitante Fernando Spagnolo, di 67 anni, tra i destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP Giovanna Sergi. Spagnolo risulta irreperibile dal maggio del 2019, a seguito della condanna all'ergastolo emessa dalla Corte d'Assise d'Appello per l'omicidio di Marcello Genacitano, avvenuto a stilo il 16 gennaio del 2005, sentenza che lo scorso settembre è stata confermata dalla Corte di Cassazione. Il GIP ha disposto il carcere anche per il figlio del boss, Ilario Spagnolo, il nipote Gesen Spagnolo e il genero Giuseppe Furina. Tutti quanti, secondo la DDA, facevano parte della cosca operante a stilo. Sono finiti in carcere anche Cosimo Panetta, Giuseppe Tassone, Cosimo Tassone e Cosimo Leotta. Quest'ultimo è accusato di essere affiliato alla cosca Ruga Gallace Leuzzi, cosca operante nell'Alto Ionio Reggino, Basso Catanzarese e zone limitrofe. Secondo la DDA, Leotta avrebbe messo a disposizione degli associati i propri immobili per lo svolgimento di riti di affiliazione all'Andrangheta. è rivestito per conto della predetta consorteria criminale il ruolo di referente territoriale del comune di stilo con la dote di Vangelo. Il GIP ha disposto inoltre gli arresti domiciliari per Francesco Aiello e Diego Tassone. In tutto ci sono 15 indagati, di cui 5 sono rimasti in stato di libertà. Tra gli altri c'è anche Giorgio Domenico Candido. Per lui il giudice non ha accolto la richiesta di arresto formulata dalla distrettuale antimafia, in particolare da Bombardieri e l'Aggiunto Lombardo e poi dai PM Ferraiuolo e Cappelleri. Accusano tutti Candido di essere il mandante delle minacce lanciate al nipote Vincenzo Sorgiovanni, ex consigliere comunale di minoranza del comune di stilo, la cui auto sarebbe stata danneggiata a colpi d'arma da fuoco da un altro indagato, Cosimo Panetta, nel febbraio del 2018. L'obiettivo, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe stato quello di condizionare le scelte di Sorgiovanni, in modo da non farlo votare con la maggioranza del comune di stilo. L'ente nel maggio del 2019, lo ricordiamo, è stato sciolto per infiltrazioni mafiose. L'anno prima la casa di campagna dell'ex sindaco Giancarlo Miriello era stata distrutta da un incendio, il cui responsabile, secondo i carabinieri, sarebbe proprio il boss Fernando Spagnolo, che voleva costringere il sindaco di stilo a non proseguire azioni di repressione contro gli allacci abusivi della rete idrica. Stando alle risultanze dei carabinieri, inoltre, Fernando e Ilario Spagnolo erano soli di far pascolare le loro capre sulla cosiddetta pineta Monte Consolino e su un antico castello mediovale, ora sottoposta a vincolo paesaggistico e considerata principale attrazione turistica dal centro storico di stilo. Secondo il GIP Giovanna Sergi, la DDA di Reggio è riuscita non solo a fotografare la tracotanza dell'andrangheta che non ammette espressioni di ribellione e nemmeno di titubanza, ma l'inchiesta doppio sgarro condotta dai carabinieri ha consentito di attribuire quella spavalderia criminale a soggetti ben determinati, a carico dei quali può dirsi raggiunto il quadro di gravità indiziaria pieno e inequivoco. L'inchiesta infine ha consentito di far luce su un'associazione dedita al traffico di cocaina e marijuana a Placanica nel comune di Stignano, a Caolonia e a Pazzano. In quest'ultimo, nel luglio 2018, gli investigatori hanno scoperto una piantagione di cannabis indica 120 piante che sono state sequestrate e distrutte dai carabinieri.